costruire e far sì che tutte le arti insieme si possano intrecciare la pizza con la pizza con la pizza, con la galleria, abbiamo davvero un teatro per tutti i flessi la madre ha insegnato a protestare, a dire che l'art ha bisogno di un'apertura noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa città di crescente noi vogliamo preparare la nascita di una venizia industriale e militare che possa dominare il mare Adriatico apprezziamoci con il mare e i piccoli canali puzzolenti saluto saluto al canale ai al canale guardare